I frati francescani del Sacro Convento di Assisi festeggiano così il loro custode, padre Mauro Gambetti. Papa Francesco da Piazza San Pietro ha appena dato l'annuncio. Il prossimo 28 novembre terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Concistoro a sorpresa, il settimo del pontificato Francesco, sia per l'annuncio inatteso ieri che per parecchi dei nomi dei 13 prossimi cardinali, oltre al francescano Gambetti che non è neppure vescovo e al neoprefetto del di Castero Vaticano per i Santi, Semeraro, c'è lo iudice di Siena dove un arcivescovo cardinale non si vedeva da inizio ottocento. Una notizia la descrive ancora emozionato. Senz'altro imprevista, mi metto nelle mani di Dio, mi metto in piena fiducia nella volontà, nelle mani del Papa e della sua volontà. E fra gli ultraottantenni insigniti del cardinalato per meriti di servizio, anche se non entreranno in conclave, ci sono il predicatore della casa pontificia da 40 anni, padre canta la messa, il nuncio apostolico Monsignor Silvano Tomasi, il parroco romano del Divino Amore ed ex direttore Caritas Monsignor Feroci. Le altre sette porpore vanno a Malta, Rwanda, Filippine, Cile, Brunei, Messico e Stati Uniti, dove Gregory di Washington sarà il primo cardinale afroamericano della storia del paese. Io non ho mai pensato a carriere. La carriera alla quale ho pensato sempre è quella di servire il Signore e servirlo nei fratelli. Io mi sento come uno che in qualche modo, l'ho detto anche al Santo Padre scherzando, sono la stampella che porta la veste, ma questo titolo cardinalizio è per tutti i parroci e per tutti i sacerdoti che lavorano nella sua diocesi. Mi viene in mente e perdonatemi se lo dico, le parole di San Paolo, piangere con chi piange e il Signore mi ha fatto piangere tante volte con la sua carne, con i poveri e con gli ultimi e gioire con chi gioisce. Questo credo che sia l'atteggiamento fondamentale che spero di aver avuto, forse non ci sono riuscito, ma spero di aver ancora, ecco così, nei pochi anni ancora che mi restano di vita. Ai parrocchiani delle sue vecchie parrocchie e della parrocchia di oggi, ai poveri della Caritas che ha conosciuto, cosa direbbe? Potrebbero pensare che lei non sarà più lo stesso Don Enrico? No. Io dirò loro che il Don Enrico di prima è il Don Enrico di adesso ed è la stessa cosa. Assolutamente non ci sarà. Spero che il Signore mi tenga la mano sulla testa di rimanere tale e quale, così come ho tentato di essere per tutta la vita.